Non è stato fatto nulla di quanto promesso. Il sindaco di Verbagna Silvia Marchionini ha scritto oggi all'ATC per sollecitare l'esecuzione degli interventi di cui necessitano le case popolari. Dopo le dimissioni del presidente Luigi Songa, il conseguente cambio ai vertici di ATC Pio e Monte Nord, scrive Marchionini, il nuovo presidente si troverà ad affrontare molti nodi e problemi. Secondo la prima cittadina le esigenze a Verbagna sono tante. Tra queste, evidenzia con l'assessore alle politiche sociali Marinella Franzetti, ci sono i ritardi dei lavori di manutenzione necessari alla consegna degli alloggi che potrebbero essere già disponibili alle famiglie assegnatari in attesa. I tempi di attesa per la realizzazione di piccole opere di manutenzione ordinaria sono lunghi con richieste non soddisfatte in tempi accettabili. Marchionini e Franzetti denunciano anche che le contabilizzazioni dagli assegnatari, degli oneri e delle spese condominali sarebbero poco chiare e tardive. Sarebbero 20 gli alloggi ancora in attesa di essere consegnati che non possono essere utilizzati per interventi che devono ancora essere fatti. L'amministrazione comunale poi spiega di non aver ancora ricevuto la rendicontazione sul lavoro svolto nel 2019. A gennaio avevamo seguito la raccolta di firme da parte degli abitanti delle case popolari in Sassonia e Intra che chiedevano più manutenzione. Dopo una visita del loro presidente erano stati rassicurati che gli interventi richiesti sarebbero stati svolti ma non risulta ancora fatto niente.